E' dentro la torre significa che c'è o un problema di costruzione o si gliggiano dentro se le portano a più Chi cazzo è porco dio Chi cazzo è? Chi cazzo è? E' dentro, raga è dentro, è dentro Come è dentro? Ma che stai dicendo? Come è possibile che sia dentro? E' morto, è morto Esso, viene esso Chi è che ha sparato? Scusate Mi è arrivata una fucilata di pompa in faccia No, questi usano le hack Se è impossibile che sta dentro Chiudi Baneamo pure a questo Ah, pessima la gente comunque Mamma mia Baneamo pure a questo E' quello di prima Quello che ha detto 56 metri Hai fatto la cacchetta? Si ragazzi ho fatto una cacca Era un po' molliccia devo dire Però allo stesso modo gode riccia Si Bellissimo vederla felice ragazzi Ho pensato di portare un po' di Eurotrack Se a voi fa piacere Portare un po' di Eurotrack Siccome siamo i masti di Eurotrack Perché non portare il gioco di Porco dio La madonna Hai rotto il cazzo Hai capito? Rottto il cazzo Porco dio Abri E porco dio Grazie mille bit bello Maestro mangia con calma questo cibo sano Sarà un po' di Sì Ah 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 Beh Ah 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 Scusate! Oh! Scusate! 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 Porco dio! Maledio! Oh ma questo non si rompe più! Ma lo tu cazzo! No porco dio nooo! Oddio cane! Porco dio! Ehi aspetta! Sì! Vi auguro una buonanotte! Vi rutto cazzo! Vittoria! 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 Ciao ragazzi! Ci vediamo domani! Ciao belli! Maradona! È gol! È gol! Maradona! 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 Che gol signori! Che gol! Che gol! Che gol! la revolve da 156 metri ma neanche power vai giù ma che stiamo scherzando? c'è anche tu più non è possibile scamma che scamma ultime due pacchette da domino dai cazzo oh toti toti e toti no non è toti ma non è toti che ci sei chi è questo? ma che è toti no? non farò facciano che dice nera tua casa andonia andonia un bene facciano che dice nera tua casa andonia andonia facciano che dice vaffanculo andonia andonia facciano che dice nera tua casa andonia andonia facciano che dice nera tua casa andonia 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 no ha fatto steam sniper secondo me devi attaccarti per forza chiave chiave aiuto porco dio che cazzo è questo? porco della madonna ma ciò cazzo è frenuto secondo me oh ma chi è? è frenuto la tema voglio secondo me grazie per aver giocato dove cazzo devo andare? vai giù è impedito se mi dite come devo fare porco dio cane ha posto di spavare cose strane si porco dio vai puttani mamma ma porco dio madonna santa porco dio spazio cocaina naccio cula mannaccio da puttani mamma da cuore fuori ma mi spero basta vedi nel par perchè non ci vedo più dalla fame cazzo ah tanto l'aggressivo ah grazie gengelissimo grazie mille mmm addio è toti non è toti non vedo bezziella bezziella pure qui su mamma sei a fumare porco dio ma ci trovi è toti no non è toti ah però va lo sto giocato no non va perchè sta la ganna per se dice dove non sono bagnato porco dio no non ho buvo no 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 si è toti